Papa Francesco, Angelus, 14 febbraio 2021. Il Vangelo di oggi ci presenta l'incontro tra Gesù e un uomo malato di lebra. I lebrosi erano considerati impuri, e, secondo le prescrizioni della legge, dovevano rimanere fuori dal centro abitato. I lebrosi erano esclusi da ogni relazione umana, sociale e religiosa. Per esempio, non potevano entrare in sinagoga, non potevano entrare nel tempio, pure religiosamente. Gesù, invece, si lascia avvicinare da quell'uomo, si commuove, addirittura stende la mano e lo tocca. Questo è impensabile in quel tempo. Così, egli realizza la buona notizia che annuncia. Dio si è fatto vicino alla nostra vita, ha compassione per le sorti dell'umanità ferita, e viene ad abbattere ogni barriera che ci impedisce di vivere la relazione con Lui, con gli altri e con noi stessi. Si è fatto vicino. Vicinanza. Ricordatevi bene questa parola. Vicinanza. Compassione. Il Vangelo dice che Gesù, vedendo il lebroso, ne ebbe compassione. E tenerezza. Tre parole che indicano lo stile di Dio. Vicinanza. Compassione. Tenerezza. In questo episodio possiamo vedere due trasgressioni che si incontrano. La trasgressione dell'ebroso che si avvicina a Gesù, e non poteva farlo, e Gesù che, mosso a compassione, lo tocca con tenerezza per guarirlo, e non poteva farlo. Ambe due sono dei trasgressori. Sono due trasgressioni. La prima trasgressione è quella dell'ebroso. Nonostante le prescrizioni della legge, egli esce dall'isolamento e viene da Gesù. La sua malattia era considerata un castigo divino, ma, in Gesù, egli può vedere un altro volto di Dio, non il Dio che castiga, ma il padre della compassione e dell'amore, che ci libera dal peccato e mai ci esclude dalla sua misericordia. Così, quell'uomo può vivere dall'isolamento, perché, in Gesù, trova Dio che condivide il suo dolore. L'atteggiamento di Gesù lo attira, lo spinge a uscire da se stesso e ad affidare a lui la sua storia dolorosa. E permettetemi qui un pensiero a tanti bravi confessori che hanno questo atteggiamento, di attirare la gente, tanta gente che si sente niente, si sente al pavimento per i suoi peccati, ma con tenerezza, con compassione. Bravi quei confessori che non sono con la frusta in mano, ma soltanto per ricevere, ascoltare e dire che Dio è buono e che Dio perdona sempre, che Dio non si stanca di perdonare. La seconda trasgressione è quella di Gesù. Mentre la legge proibiva di toccare i leprosi, egli si commuove, stende la mano e lo tocca per guarirlo. Qualcuno direbbe, ha peccato, ha fatto quello che la legge vieta, è un trasgressore. È vero, è un trasgressore, non si limita alle parole, ma lo tocca. E toccare con amore significa stabilire una relazione, entrare in comunione, coinvolgersi nella vita dell'altro, fino a condividerne anche le ferite. Con questo gesto, Gesù mostra che Dio, che non è indifferente, non si tiene a distanza di sicurezza. Anzi, si avvicina con compassione e tocca la nostra vita per risanarla con tenerezza. È lo stile di Dio, vicinanza, compassione e tenerezza. La trasgressione di Dio è un grande trasgressore in questo senso. Fratelli e sorelle, anche oggi, nel mondo, tanti nostri fratelli soffrono per questa malattia, o per altre malattie e condizioni a cui è purtroppo associato un pregiudizio sociale. Questo è un peccatore. Pensate a quel momento, quando entrò nel banchetto quella donna e buttò sui piedi di Gesù del profumo. Gli altri dicevano, ma se questo fosse un profeta, sarebbe conscio, conoscerebbe chi è questa donna, una peccatrice. Il disprezzo. Invece Gesù riceve, anzi, ringrazia. Ti sono perdonati i tuoi peccati. La tenerezza di Gesù. E il pregiudizio sociale di allontanare la gente con la parola. Questo è un impuro. Questo è un peccatore. Questo è un truffatore. Sì, a volte è vero, ma non pregiudicare. A ciascuno di noi può capitare di sperimentare ferite, fallimenti, sofferenze, egoismi che ci chiudono a Dio e agli altri, perché il peccato ci chiude in noi stessi, per vergogna, per umiliazioni. Ma Dio vuole aprire il cuore. Dinanzi a tutto questo, Gesù ci annuncia che Dio non è un'idea o una dottrina astratta, ma Dio è colui che si contamina con la nostra umanità ferita e non ha paura di venire a contatto con le nostre piaghe. Ma padre, cosa sta dicendo, che Dio si contamina? Non lo dico io, lo ha detto San Paolo, si è fatto peccato. Lui che non è peccatore, che non può peccare, si è fatto peccato. Guarda come si è contaminato Dio per avvicinarsi a noi, per avere compassione e per far capire la sua tenerezza. Vicinanza, compassione e tenerezza. Per rispettare le regole della buona reputazione e delle consuetudini sociali, noi spesso mettiamo a tacere il dolore o indossiamo delle maschere che lo camuffano. Per far quadrare i calcoli dei nostri egoismi o le leggi interiori delle nostre paure, non ci convolgiamo troppo nelle sofferezze degli altri. Chiediamo invece al Signore la grazia di vivere queste due trasgressioni del Vangelo di oggi. quella dell'Ebroso perché abbiamo il coraggio di uscire dal nostro isolamento e invece di restare lì a commiserarci o a piangere i nostri fallimenti, le lamentele, e invece di questo andiamo da Gesù così come siamo. Signore, io sono così. Sentiremo quell'abbraccio, quell'abbraccio di Gesù tanto bello, e poi la trasgressione di Gesù, un amore che fa andare oltre le convenzioni, che fa superare i pregiudizi e la paura di mescolarci con la vita dell'altro. Impariamo a essere trasgressori come questi due lebrosi, come il lebroso e come Gesù.